Che cosa portiamo nel cuore? I bambini più piccoli della scuola primaria rispondono, gli amici e il gusto di giocare, con il canto sui pattini del filosofo e musicista Daniele Semprini. I più grandi rispondono, la scoperta del mondo, con la canzone che dice tutto, del nostro amico, maestro e musicista Paolo Amelio. Mi stanno un po' frenare, chi si sbaccia a partinare? Mi stanno un po' frenare, chi si sbaccia a partinare? Ho la prima di la testa, mi toccare la volontà, il tuo giorno, il tuo giorno è vista, vista per favore, Allora sì, vorrei fare, ma mi sento da chiamare, dalla mamma e scherzo via nel porto di casa mia. Sono bene la testa, mi toccare la volontà, il tuo giorno è vista, vista, vista per favore, Allora sì, vorrei fare, ma mi sento da chiamare, dalla mamma e scherzo via nel porto di casa mia. Allora sì, vorrei fare, ma mi sento da chiamare, dalla mamma e scherzo via nel porto di casa mia. Grazie. 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 Grazie.